Ragazzi, mi raccomando, arriviamo a 15.000 mi piace Se volete un altro video al campetto insieme a questi pazzi Mi raccomando, condividete il video il più possibile Perché questo video è veramente epico, ragazzi Quindi, andiamo dentro con il video Bene ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi, siamo qui al Caravaggio Sporting Village Per fare una sfida solitaria con la porta e con un pallone Che mi sta per arrivare in questo momento Due me ne sono arrivati, però vabbè Quindi ragazzi, oggi siamo con la No Look Napoli Challenge Ovvero, un'anima misteriosa, mi passerà la palla da dietro E io dovrò indovinare dove andrà la palla, tirare e segnare Questo è lo scopo della challenge Però signori, siamo qui! Conna! Quindi, bene ragazzi Che non mai da FuseGamer oggi ragazzi Cominciamola, davanti ragazzi, dai, cominciamola Siamo con Enri Nazza Ciao Toni Tubo Olè Stati, non metti in me Oh, scema Dai dai Enzo, c'è la bomba Con la maglietta originale del Napoli Sì, veramente Home Mirko e Promo da 3 Zecravo design Momo Salah E Salah, Momo Salah, signori Palafela a tutti Faremo due tiri a testa, quindi faremo due giri, quindi due tiri a testa, quindi Andiamo ad entro Con i tiri Sì Ecco E per questo video raggiungiamo almeno 15.000 mi piace Comincia Toni Tubo Ragazzi, sono Toni Tubo Mettiti sulla linea Mettiti sulla linea Mia, vai Da tiro Nooo Nooo Oh, scherzo a ridavo Crossbar Challenge Nooo Mamma Ehi, scusa Toni Nooo Ha cercato No, già Luigi Buffon Raga, quello che farà male con l'individuo la oggi Seriamente Oh nooo Andrea però In mea ma Hai inciso il contratto Me l'hai messo in figlio In figlio del tuo mare Aaaaaah Buone Tantino Gli ha buccato Tantino Tantino Oh no M***a E' una montagna Rega, come cazzo faccio a segnali Così Oh We have been going HB Così Ragazzi è un po' di giovane vai zecco la pista, voglio una pista tu darai alla gente un ideale al quale ispirarsi correranno con te vacilleranno, cadranno bravo Scele vai 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 zero faccio schifo ma regà lui è zaccino ho capito ho capito ma se me la tirano così aveva ancora il freno, ho attaccato un attimo che cazzo fai pensa ai peperoni merda vai 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 ma lei è leggerissima che cazzo è la tela quella vai oh lei ha schiazzato però vai 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 secondo me è morata quello vero eh vai 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 quasi ma st***o di uno sciale di c***a quanto siamo tutti a uno? oh ma qua chi ha fatto due gollo? nessuno può fargli ancora mister vai mister ma il mancino proprio come sarà posizione naturale vai andò bobo 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 e ancora una volta ho sbagliato cambiamo posizione no ma no ma giornata no per momo ooo non sbaglia come on questo lo buca no la parla è sbaglia più uno dopo più uno dopo allora ho fatto un gol chi che ha fatto un gol venisse qui ecco ragazzi noi siamo quelli che hanno fatto un gol che scarsi comunque che storti quindi adesso faremo un tiro a testa chi segna va avanti eh va facciamo sì va esatto vai Tony riproviamoci ragazzi dopo il gol di prima fantastico va nooo Tony è escluso Tony è eliminato le ho fregati non l'avevo segnato prima nooo 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 morì eh sono io ah c'è porca madonna no scusa chi ne è sordo scusa non l'avanti signore mamma mia ma che cazzo ma che ho abbrinzato mamma mia ma scemo ma scemo nooo vai Pipita nooo nooo la legge del Pipita nooo mi vengo al fantacalcio che scherzo bello ammè che piedi c'hai vai tipo come i garanti quanto sei p***o vai 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 ci siamo vai Andri va si sforbiciata ohhhh vamo per te da tiro andiamo così v'è un Lukas c'è Gregorin a carico di natale c'è non si credo Reina Reina ah 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 Lano ok oh si ripara ragazzi se segno vinco vedo 15 mila mi piace se vinco ah 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 , ah 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 ahhhh ah 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 all'alto o ahhhh continues Cine ragazzi ho vinto per la sfida quindi 15 mili piace per Ringsettino quindi lasciate il mi piace per il commento Iscrivetevi al canale Ringraziamo Caravaggio Sporting Village Per averci offerto il campo Noi ci becchiamo In un prossimo video Venga ragazzi